buongiorno è mattino presto quando mi metto a spiegarvi questa icona che è un po strana infatti il titolo è pietra non tagliata da mano d'uomo in russia dopo il quindicesimo secolo all'immagine di maria scala di giacobbe si aggiunge quella di montagna inviolata da cui si sviluppano composizioni in trono grandi e complesse da una parte del cantico l'imno acasticos riprendiamo queste parole rallegrati pietra che dai ristoro agli assetati fu creato da queste parole il tipo canonico di cui è riprodotto un esempio splendido che si rifà un testo dell'antico testamento la profezia di daniele interpreta il sogno di nabucco donoso che aveva visto un masso rotolare dal monte fino a infrangere un colosso una pietra si staccò dal monte ma non per mano d'uomo e andò a battere contro i piedi della statua che erano di ferro e di argilla e li frantumò e divenne una grande montagna è la profezia di daniele al capitolo 2 dal versetto 34 al versetto 35 il profeta daniele scorge in questa pietra una prefigurazione del messia che sconfiggerà il male dopo essere nato da una vergine la madre di dio strumento eletto da dio per spezzare la catena del peccato in questa immagine rappresenta il cielo da cui discende la pietra di salvezza come commenta san paolo e quella roccia era il cristo indicando con l'inclinazione del capo e con lo sguardo il figlio giudice misericordioso e benedicente la vergine mostra tutti gli emblemi della scala che attraverso l'incarnazione ha riunito cielo e terra prima divisi dal peccato ed è la pietra non tagliata da mano umana su cui si innalzano le mura di gerusalemme secondo le parole del profeta daniele il dio del cielo farà sorgere un regno che non sarà mai distrutto nei secoli come vedete non è un'icona facile e non è un'icona che siamo abituati a vedere frequentemente però questa pietra che cade dal monte e distrugge con la sua forza la semplicità la fragilità di questa grande statua ci invita questa mattina a pregare per tutte le persone fragili che sono possibilmente distrutte da chi è più potente da chi crede di essere troppo forte la malizia la cattiveria umana è capace di distruggere la fragilità delle persone e tutte queste persone fragili allora le affidiamo alla vergine santissima che è la pietra non tagliata da mano d'uomo ave maria piena di grazia il signore con te tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno gesù santa maria madre di dio prega per noi peccatori adesso è nell'ora della nostra morte amen ave o maria piena di grazia il signore con te tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno gesù santa maria madre di dio prega per noi peccatori adesso è nell'ora della nostra morte amen ave o maria piena di grazia il signore con te tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno gesù santa maria madre di dio prega per noi peccatori ave o maria piena di grazia il signore con te tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno gesù santa maria madre di dio prega per noi peccatori adesso è nell'ora della nostra morte amen ave o maria piena di grazia il signore con te tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno gesù santa maria madre di dio prega per noi peccatori adesso è nell'ora della nostra morte amen ave o maria piena di grazia il signore con te tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno gesù santa maria madre di dio prega per noi peccatori adesso è nell'ora della nostra morte amen ave o maria piena di grazia il signore è con te tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno gesù santa maria madre di dio prega per noi peccatori adesso è nell'ora della nostra morte amen ave o maria piena di grazia il signore con te tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno gesù santa maria madre di dio prega per noi peccatori adesso è nell'ora della nostra morte amen ave o maria piena di grazia il signore con te tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno gesù santa maria madre di dio prega per noi peccatori adesso è nell'ora della nostra morte amen ave o maria piena di grazia il signore è con te tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno gesù santa maria madre di dio prega per noi peccatori adesso è nell'ora della nostra morte amen ecco allora la preghiera di quest'oggi della pietra non tagliata da mano d'uomo colui che dalla pietra ha fatto sgorgare l'acqua per un popolo ribelle accorda a noi popoli docili da un grembo sterile un frutto di gioia te purissima madre di dio noi ti magnifichiamo come doveroso montagna porta del cielo e scala spirituale sono questi i nomi che un tempo il coro divino dei profeti dava a te infatti da te si è staccata una pietra senza concorso di strumento umano tu sei colei che ha dato passaggio al signore delle meraviglie il dio dei nostri padri un avviso quando vi capita di passare davanti alla chiesa provate a guardare il cartellone che abbiamo messo e che ci aiuta a guardare a prepararci quando domenica 24 ci sarà la prima volta che riprenderemo la santa messa alla domenica lunedì prossimo 18 alle 8 e 30 del mattino inizieremo la messa in chiesa che sarà fatta con il minimo indispensabile pochi canti le letture indispensabili la messa normale come la faccio adesso in oratorietto e ad agio ad agio ci abitueremo a riprendere le nostre celebrazioni con la grande festa senza dimenticare che la fine di questo mese proprio il 31 noi celebreremo la solennità della pentecoste mentre il 24 sarà proprio il giorno della consacrazione della nostra chiesa quindi sarà una domenica molto bella per ricominciare a pregare tutti insieme vi auguro buona giornata anche se il tempo oggi non è proprio così bello però ciascuno di noi faccia vivere bene questa giornata con il suo saluto alle persone con il suo sguardo con il suo sorriso arrivederci